Un cordiale saluto a tutti, Giuseppe Bratti vi parla dagli studi di Radio Piave per questa intervista che vede con noi, ancora una volta lo ringraziamo per la presenza assidua in questi studi con noi del Vescovo Renato e di Stefano Perali. Siamo qui assieme questo pomeriggio per parlare del convegno diocesano e ora vediamo a video la locandina, chi me lo fa fare, convegno diocesano che si intitola rianimare e rigenerare le nostre comunità, richiede l'impegno responsabile di tutti e di ciascuno. È un convegno che ha diverse caratteristiche, lo scopriremo in questo incontro, ma chiedo innanzitutto al Vescovo Renato questa particella ri, rianimare, rigenerare. Di cosa ci sta parlando? Ci sta parlando di un tessuto sociale che è oggettivamente indebolito negli ultimi anni, il tema e il problema dello spopolamento ne è testimone, oppure ci parla di pratiche buone che già esistono nelle nostre comunità, pure nelle difficoltà della vita in montagna e che meritano di essere portate alla ribalta, portate alla luce e anche potenziate. In che senso questa particella ri, rianimare e rigenerare? Mi piace questo ri perché dice che bisogna prenderlo bene il testimone di chi ci ha preceduto. Quindi bene vuol dire che dobbiamo metterci la nostra originalità e quindi come ogni originalità ecco allora il tema approfondono, mi metto in gioco io per quello che ho ricevuto e per quello che posso e so dare. Direi che quel ri mette in atto questa dinamica per cui non è partire da uno zero assoluto, è invece prendere le nostre responsabilità perché anche noi abbiamo ricevuto. Penso che la comunità ecclesiale che è chiamata a sentirsi soggetto attivo in questo convegno e sono tutte le nostre parrocchie convocate in questo senso, vive di questo aver ricevuto e di questo rimettersi in gioco e scendere in campo. Dico scendere, il ridice è anche un scendere perché a volte volare in alto vuol dire non fare i conti appunto con la realtà così com'è sotto i nostri piedi quella che noi stessi abitiamo. Quindi quel ri vuol dire anche un aggancio nuovo, ulteriore e direi profondo anche con il contesto in cui viviamo che poi ha delle difficoltà particolari oggi rispetto a ieri e su questo noi vorremmo che suscitare ulteriormente questo il gusto di metterci in gioco ma di coinvolgere anche tanti altri soggetti. La comunità cristiana, la comunità ecclesiale, cioè le parrocchie qui vorrebbero essere anche un soggetto che favorisce una convocazione globale generale di tutte le realtà presenti. Grazie, abbiamo parlato di aggancio profondo, di coinvolgimento di tutte le parrocchie, di un ricevere il testimone. Ora chiedo a Stefano Perale che è organizzatore principale del convegno anche se non unico perché come questo convegno è nato subito in maniera sinodale per usare una parola che ci è cara. Ecco, a Stefano Perale chiedo chi avrà il compito di portare alla luce, di agganciare nel profondo, di coinvolgere le nostre comunità e sto pensando alla rosa dei relatori che è davvero interessante. Sì, abbiamo proprio provato a mettere insieme, come diceva prima il nostro Vescovo, l'originalità ma anche la tradizione. La nostra terra e non solo la nostra terra, il nostro territorio. Per cui i relatori continueranno a intervallarsi fra persone che vengono da fuori e realtà bellunesi. persone anche di spessore come Luigi Gui, un sociologo che farà il quadro introduttivo di tutto il tema. Giuseppe Savino che porterà un'esperienza concreta di legame fra agricoltura e turismo, però che viene dalla Puglia, quindi viene da lontano. Nel pomeriggio della prima giornata ci sarà anche Lorenzo Biagi che parlerà proprio dell'impegno, l'impegno come promessa per camminare insieme. E infine Gianpietro Parolin che ci aiuterà a sviluppare proprio il tema della comunità e la vocazione dei territori perché è proprio quello che dobbiamo ricercare. Ogni territorio deve dare una risposta alla sua specifica chiamata. Il tutto intervallato con delle esperienze di giovani, di giovani bellunesi che quindi attraverso Marco Ciociano e Alberto Balzan ci racconteranno loro da bellunesi, bellunesi che vivono a Belluno e bellunesi che vivono fuori Belluno, cosa hanno raccolto dalla nostra terra e che cosa possono ancora dare. Ecco Stefano Perali, chiedo ancora. Questo convegno pur innestandosi, pur prendendo il testimone, abbiamo detto da una tradizione di conveni della pastorale sociale della nostra diocesi, presenta delle significative novità. Non ultima la location a Colcumano piuttosto che a San Marco d'Auronzo, ma ce ne sono altre che credo valga la pena raccontare a chi ci segue per dare davvero la sensazione di una proposta a 360 gradi che vuole coinvolgere il più possibile. Il primo cambiamento fondamentale dopo 15 anni è stato proprio quello di spostarci da San Marco e ci siamo anche spostati come periodo perché di solito era il primo weekend di settembre invece siamo arrivati a metà settembre. Cambiando quindi le caratteristiche, non è più la famiglia che si sposta e fa due giorni, tre giorni di approfondimento a San Marco, ma diventa un'occasione per tutti, anche per vivere magari solo la mezza giornata o la giornata che è disponibile. Abbiamo poi puntato molto sulla comunicazione, cioè proprio perché è una chiesa che vuole parlare con la città, con il territorio. Abbiamo cominciato a coinvolgere molti rappresentanti di associazione, abbiamo fatto una decina di interviste con i vari soggetti che in qualche modo sono già impegnati nell'associazionismo, non solo quello cattolico, ma anche proprio del terzo settore, l'associazionismo di rappresentanza anche sindacale, politica e poi chi serve il territorio per esempio con l'impegno politico. E a loro abbiamo chiesto chi te lo fa fare. Abbiamo avuto modo di uscire anche con delle interviste su Facebook, sul sito della Diocesi, siamo usciti sul giornale dell'Amico del Popolo, ormai con queste decine di interviste. Quindi dovrebbero essere state tutte occasioni che aiutano a entrare sempre di più nel tema e a coinvolgere, a sentirsi coinvolti. Ecco Stefano Perale, un ultimo appello all'iscrizione. C'è ancora tempo ed è una modalità di iscrizione particolare. Anche questa intervista vuole essere un modo per esserci nel mondo dei social. Sì, allora l'iscrizione è dovuta per il semplice fatto che essendoci anche la possibilità di fermarsi a pranzo dobbiamo preparare i pranzi e le cene e quindi è bene che chiunque voglia partecipare si iscriva. E soprattutto in questo caso è bene che lo faccia in tempo. Lo può ancora fare, lo potrà fare fino quasi all'ultimo, oltre a quelli che arriveranno lì al momento, ma allora è più difficile che riescano a mangiare. E l'unica cosa è collegarsi in internet al sito della Diocesi, quindi chiesabellunofeltre.it e lì si trova il modulo di iscrizione. Benissimo, sicuramente anche questo nostro intervento non mancherà di raggiungere persone interessate, ma voglio ridare la parola al Vescovo per collocare questa iniziativa così importante nel solco degli orientamenti pastorali che sono stati appena pubblicati e diffusi, rivolti innanzitutto ai consigli pastorali, ai parroci. A me sembra, Don Renato, che se vogliamo proprio essere sintetici al massimo, la parola che più torna in queste pagine è la parola insieme, insieme le parrocchie, insieme i sacerdoti, insieme la proposta all'iniziazione cristiana, insieme. Ebbene, questa parola insieme, che tonalità prende in questa proposta del convegno chi me lo fa fare, rianimare e rigenerare le nostre comunità? L'insieme è anche la consapevolezza come Chiesa che questo evento lo vogliamo, lo desideriamo in una prospettiva pastorale, cioè è la consapevolezza nostra molto semplice, molto vorremmo anche aggiornata, di abitarlo questo territorio con passione e con la passione direi che è lo specifico delle comunità con la passione evangelica, sapendo che quello per cui tutti lavoriamo e lo chiamiamo bene comune perché ci coinvolge tutti è anche un contributo che possiamo dare in forza in nome della missione ricevuta da Gesù perché il Vangelo è una buona notizia ed è una buona notizia anche sociale. E allora proprio questo mi pare che esprima quell'insieme di non lavoriamo per noi stessi, lavoriamo per l'insieme che siamo. Direi la esprimerei così. E questo diventa proprio forte, evidente anche in questo convegno in un anno pastorale in cui, come appunto dicevi nella domanda, siamo tutti a ritrovare le ragioni, le motivazioni del ricomporci e del mettere insieme le risorse che tutti siamo e abbiamo. Direi che questa è la grande sfida dell'anno pastorale. Lo devono fare anche le nostre comunità parrocchiali perché, come erano impostate nel passato, si giustifica che dovessero lavorare all'interno molto. Oggi dobbiamo molto lavorare interagendo e aprendoci. Questo è anche il modo concreto con cui noi vogliamo esprimere quello slogan che sta proprio a dire, ad esprimere gli orientamenti pastorali che vuol dire vogliamo camminare in questo modo. Camminiamo insieme sulla via del Vangelo. Camminiamo insieme sulla via del Vangelo, insieme per ricostruire il nostro tessuto e aspettiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando al convegno Chi me lo fa fare, rianimare e rigenerare le nostre comunità, ancora una volta a video vediamo il manifesto, con l'impegno responsabile di tutti e di ciascuno. Grazie ancora ai nostri ospiti, al Vescovo Renato e a Stefano Perale, a tutti coloro che ci stanno ascoltando l'invito a rimanere sui nostri canali social ed augurio di un buon proseguimento. e arrivederci al convegno.